Ragazzi, passate da Eneba.com per avere a un prezzo stracciato PSN Card e Microsoft Card per le vostre spacchettate sui football e tanto altro sul mondo videoludico. Non facciamoci fregare dagli store delle nostre console con prezzi molto molto più alti e acquistiamo tutti tramite i link che trovate in descrizione. Compra anche tu su Eneba.com Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di Football 2023. Video aggiornamento ragazzi, molto rapido, senza webcam, vi parlerò delle novità del giorno, delle nuove carte, dei nuovi eventi, dei nuovi player of the week. Prima di andare avanti, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e mi raccomando lasciate un bel mi piace a questo video che aiuta tantissimo l'andamento del contenuto stesso. È importantissimo ed è anche gratuito. Scusa l'amministratore per due, tutte e due consegnate oggi, il 9, vabbè, premi di fase ragazzi, ovviamente dipende da dove siete stati, in che divisione, eccetera eccetera, e bonus d'accesso, 10.000 GP. Riscattate tutto, mi raccomando. Allora, andiamo a vedere le novità dell'aggiornamento di oggi, del Dream Team, a livello di pacchetti, a livello di eventi. Sicuramente il contenuto più atteso a livello di pacchetti degli ultimi tempi è lui, è Vieira. Vieira è arrivato, 100 di overall, c'è anche Berk Gump in questo pacchetto e Rossi Key. Allora, andiamo a vedere un po', andiamo a vedere un po' le statistiche di questi tre giocatori. Vieira. Vieira. Ma tantissima roba, peccato che la carta è onnipresente, l'avrei tanto voluto collante, ma non si può avere tutto dalla vita. Ovviamente andategli ad uppare soprattutto velocità, comportamento difensivo e passaggio e avrete una bomba di giocatore, ragazzi. Chiaramente se lo volete utilizzare come mediano difensivo, gli dovete mettere il difensivo sopra, perché non ha collante, però in ogni caso rimane una delle carte più forti di questo gioco. Ed è ovviamente in versione big time. Berk Gump, ragazzi, anche lui un ottimo giocatore. Vediamo un po' che tipo di skill ha, controllo di suola, non ha, se non sbaglio, quella che voglio io. Doppio tocco non ce l'ha, però mi sembra comunque un ottimo giocatore. Andiamo a vedere anche questo trequartista che è uscito molto interessante. Andiamo a vedere che skill ha, la spalla di giro, lo tiro di prima, no, anche in questo caso mi sa, mi sa che non ha il doppio tocco. Però comunque potrebbe essere interessante andandogli ad uppare l'accelerazione, comportamento offensivo, il dribbling, eccetera, eccetera. Insomma, per fargli un giocatore leggermente più pericoloso lì davanti in fase offensiva. Come dico sempre, non è semplice trovare una leggenda, un giocatore epico, scusate, big time, o semplicemente giocatore epico in questi pacchetti, perché sono pool da 150 giocatori, lo sapete, ogni spacchettata sono 100 monete che è più o meno un euro. Quindi ragazzi potete tranquillamente spendere 100 euro e non trovare nulla, come potete tranquillamente spendere un euro e trovare un giocatore epico. È tutto questione di fortuna. Però se volete risparmiare, se proprio volete spacchettare, che non ne potete fare a meno, che avete la possibilità di spacchettare, e quindi lo fate, Per risparmiare passate da Eneba, Eneba, trovate il link in descrizione, mi raccomando, passate, perché lì potete comprare PSN card super scontate, con cui poi ovviamente potete andare a acquistare anche le monete e-football, perché vi viene caricato il credito sul vostro portfoglio, e eventualmente potete anche acquistare appunto questi tipi di pacchetti, provare a prendere via, ecco, anche se non è semplice. Le altre novità di oggi, Player of the Week Worldwide del 9 febbraio 2023, ovvero di oggi ragazzi, si possono pescare tre giocatori, e abbiamo questi tre giocatori che ci mette come copertina, diciamo. Allora, Henry Kane, Henry Kane, giocatore pesantuccio, mi viene da dire. Chiaramente questi tipi di giocatori, lo sapete, questi Player of the Week non hanno i livelli, sono già livellati, quindi è inutile che vi dico come farli, perché sono già pronti. Allora, chiaramente non ha doppio tocco, non ha niente, questo non è il tipo di attaccante che a me piace, però se vi piacciono attaccanti possenti e molto lenti, lui è l'ideale, perché è veramente lento. Questo per girarsi ci vuole una settimana ragazzi, prima che si gira, quindi non mi sento di consigliarlo, almeno per come gioco io. C'ha la Noglu, c'ha la Noglu, c'ha la Noglu, c'ha la Noglu, non ha skill particolarmente efficace, statistiche discrete, anche in questo caso ragazzi, non mi sento di consigliare questo giocatore. Hakimi, Hakimi è un super terzino ragazzi, super terzino, ha voglia, questo è veramente buono, un po' più in fase offensiva, ma secondo me non è male anche in fase difensiva. Kingsley Coman, lui ce lo deve avere per forza, doppio tocco, elastico, quindi ha tutte le skill ottime che servono per dribbolare l'avversario e ha anche riserva di lusso come carta, quindi può essere inserito dal secondo tempo e ti spacca la partita. Statistiche eccezionalmente forti, soprattutto in campo di velocità, accelerazione, comportamento offensivo, dribbling, quindi questa è la prima carta di questo poll che dico, anzi la seconda carta di questo poll perché ho detto anche Hakimi, questo è consigliato ragazzi, quindi per adesso consigliati Hakimi e Coman. Jordi Alba, terzino offensivo, anche lui non male ragazzi, che statistiche, che statistiche, consigliata, terza carta che vi consiglio di questo poll. Kvarashkelia, allora, bella carta, doppio tocco, bella carta. Ragazzi lui, se lo trovate, è da provare, c'ha pure forma A, consigliata. I bagnez, i bagnez, statistiche discrete, per un difensore quella velocità non è male, 1.86, un po' basso, io direi, lasciamo stare per questa carta. Oh, se proprio volete, visto che ha valutazione A, provatela però, il consigliato, non ve lo metto. Però, se volete provarla, provatela, giusto perché ha valutazione A e comunque le statistiche schifo non fanno. Yenacho, Yenacho punta senza palla, è lo stile di gioco. Non ha il doppio tocco, non ha skills particolarmente efficaci, non è nemmeno velocissimo, quindi non lo consiglio. Poi, Gio Mario, CLD, che può giocare anche sul centrocampo, statistiche non ottime, soprattutto in fase di velocità. Non ha skills particolarmente efficaci, quindi anche in questo caso non consiglio. Rajkovic, un portiere di 1.91 con valutazione A, lui lo potete anche provare, anche se, come dico sempre, i portieri più o meno prendono gol tutti, ragazzi, quindi è inutile che cambiate portieri 100 volte, perché tanto tutti i portieri, anche gli epici, prendono gol in questo gioco. Poi, andiamo a vedere se ci sono altre novità, ragazzi. Allora, questo già c'è, tutto, non ci sono novità. Qui, pacchetti, ancora vuoti, ragazzi, non ci sono novità nei pacchetti. Andiamo, quindi, a vedere gli eventi. Vediamo, 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 vediamo questi nuovi eventi. Allora, English League dovrebbe essere nuovo. Sì, perché ti dà l'accordo al buio per i Player of the Week di oggi. Puoi ricevere punti bonus aggiungendo giocatori delle seguenti squadre. Quindi non c'è l'obbligo di aggiungere giocatori delle seguenti squadre. Si prendono solo bonus nel farlo. I premi sono questi, ho 1000 punti, 30k GP, 2000 punti, 30k GP e 3000 punti, il giro gratuito in più. Quindi con questo, a cordo al buio, potete fare il quarto giro nei Player of the Week, Worldwide, del 9 febbraio. Cioè, oggi. Che, tra l'altro, non sono eccezionali. Cioè, c'è Kvarashkelia che è quello che forse mi interessa un po' di più, ragazzi. Perché è una bellissima, veramente una bellissima carta. Poi, anche questo English League dovrebbe essere di oggi, fresco fresco di giornata, infatti è così. Qua, però, c'è il limite di squadra. Dovete mettere almeno 18 giocatori, quindi tutta la squadra, con giocatori delle seguenti squadre. Campionato inglese. Nulla di più semplice, ragazzi. Allora, vediamo che si vince. Prima volta 10.000 GP nella prima sfida. Seconda sfida, 30k GP. Terza sfida, 50 monete e i Football. Questo già c'era e non ci sono altre novità in questo tipo di eventi. Il campionato e i Football, apriamolo insieme, ragazzi. Chiaramente è iniziata la fase 7, essendo che è terminata la fase 6, ovviamente. I Divisione 1, come me, si trovano ribaltati in Divisione 3. Si trovano catapultati in Divisione 3. Ci sono tutti i premi che mi stanno arrivando a riscattare. E quindi, come sempre, si inizia tutto da capo. Vediamo se ci sono altre novità, perché io vado sempre a controllare anche qui, per vedere se ci sono eventi con le scuole normali. Vabbè, la Coppa e i Football Italia. Io sto nerdando da morire nel tentativo di fare 15-0. Arrivo massimo a 13. Non ce la sto facendo. Però ancora manca una settimana, può darsi che sta settimanella ce la faccio. Anche perché per adesso, nella Roma, se non sbaglio, solo 2-3 hanno fatto 15-0. Ancora è tutto apertissimo. Ma non ci sono altre novità a livello di eventi con le squadre normali. Che dite, ragazzi? Andiamo anche a vedere il negozio Punti Football? Non si sa mai, c'è qualche tipo di novità? Vediamo. No, non c'è niente, ragazzi. Mi sembra di no. No. Nulla. 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 Non ci dovrebbe essere null'altro, ragazzi. Beh, ragazzi, io direi che per questo video può bastare così. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti sulle novità del giorno. Fatemi sapere se avete aperto i pack, se avete trovato via i Ra, chi dei Player of the Week avete pescato. Insomma, ditemi tutto, perché come sempre, per me, la vostra opinione è molto importante. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto dal vostro SimoPlay. Bella, ragazzi!